Siamo all'interno dell'ex colorificio toscano, che cosa è accaduto questa mattina? Questa mattina di sabato 20 ottobre 2012, dopo la Common Street diritti nello spazio di sabato scorso, il Municipio dei Beni Comuni ha finalmente restituito alla città di Pisa l'ex colorificio toscano e sede di una multinazionale italo tedesca, J. Colors, con sede nel milanese, che dopo essersi appropriata, aver rilevato il marchio dell'ex colorificio toscano in sede a Pisa fin dal 1924, ha delocalizzato la produzione industriale lasciando per alcuni anni questo edificio a magazzino per poi lasciarlo nel più totale abbandono. Siamo con Stefano, ex lavoratore del colorificio ed ex delegato sindacale. Se ci puoi raccontare come si è arrivati alla chiusura del colorificio? La chiusura del colorificio dal 1993 dopo il fallimento, con l'acquisizione prima di Rossetti, poi di Junganz, lì avevamo già capito che la storia del colorificio sarebbe finita nel breve tempo. Ci siamo tante volte rimboccate le maniche, rappresentanti sindacali, sindacato, comune, per cercare che questo non avvenisse. Poi col tempo hanno cambiato diverse tipologie di produzione. Prima ci siamo fermati allo smalti, abbiamo eliminato gli smalti, abbiamo cominciato a fare le idropitture per tutto il gruppo, Rossetti, Junganz e Toscano. Dopo lotta dura, cercando di non fargli fare ciò che vogliono fare, l'idea era di che a Milano avevamo una fabbrica che faceva venire in polvere, che si chiamava il Sonzisi e facevano tre turni lavorativi. Decisero di togliere un turno là, la notte, e darci un turno a noi. Il personale, cambiando un'altra volta tutto il tipo di produzione, abbiamo cominciato a fare venire in polvere. Poi c'è stata la crisi che tutti conosciamo, loro dicono che la crisi è stata quella che gli ha fatto decidere di chiudere questo stabilimento, anche se penso che non sia stato quello. L'interesse è partito da molto lontano, già dal 1996 quando ha acquisito il marchio. Silvestro è un ex lavoratore del colorificio, quando hai lavorato qui e per quanto tempo? Allora, qui ci sono venuto nel 1992, ai tempi faceva sempre l'università e la produzione era tale che stagionalmente venivano chiamati gli studenti all'ufficio a collocamento e quindi casualmente fu l'ambiente prima esperienza operaia. L'ambiente era di tipo familiare, perché la fabbrica veniva vissuta con i ritmi forse innate della produzione. Quanti operai lavoravano nell'estate in cui hai lavorato tu all'interno del colorificio? Non lo ricordo bene, però mi ricordo che la mensa era molto affollata, quindi erano turni diversi, un centinaio sicuramente ci lavoravano, un centinaio di persone. Io stavo nel reparto dei smalti, che era quello un po' più tossico, che era quello che ovviamente eravamo sempre sotto la legislazione del 1954, non c'era la sicurezza sul luogo di lavoro. Praticamente c'erano le vernici che venivano riempite in dei cassoni e tu manualmente riempievi i barattoli, respirando tutti i solventi che venivano fuori. Funzionava così, i solventi andavano in alto, poi c'erano dei finestroni aperti e venivano distolti nell'aria automaticamente. Lo stabilimento ha chiuso definitivamente dopo anni di agonia e di lotte nel 2008. E dei lavoratori, che cosa è successo? Eravamo a quel punto di rimasto, i 13 lavoratori soli, qualcuno è andato in mobilità, prima abbiamo fatto la cassa integrazione, poi abbiamo fatto la mobilità, qualcuno ha avuto fortuna e ha trovato lavoro, pochi. Chi ha 50 anni è difficile trovare lavoro, qualcuno è andato in pensione, anche lì pochi intimi, e poi penso ci sia sempre 3 o 4 ragazzi che sono in attesa di occupazione. Lo spazio dopo tanto tempo che è stato abbandonato viene riaperto, che cosa pensi di questa iniziativa? Io spero che sia riaperto e che nessuno imponga di riuscire qui, soprattutto il Comune, visto che ha preso l'impegno e che qui sopra aveva deciso di non far costruire niente. Spero che il Comune mantenga le promesse fatte. Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea, che cosa accadrà oggi pomeriggio? Sì, oggi alle 17, assemblea del Municipio dei Beni Comuni, appunto un primo momento di apertura totalmente pubblica a tutti coloro che vorranno venire a vedere il colorificio, questo nuovo spazio, che ricordiamo si tratta di un ex-sito industriale, quindi un vero e proprio esempio di archeologia industriale, da rivendicare anche proprio come difesa di un bene comune, che viene da quello che è il tessuto economico della città, che è stato depredato e lasciato all'abbandono. Proprio per questo motivo pensiamo di dedicare fin da subito una zona del colorificio alla storia del luogo, quello che ha significato per la città e quello che ha smesso di essere dopo la delocalizzazione e la produzione. Ci sono degli ex lavoratori del colorificio che si sono imbarcati con noi in questo percorso, che ci sostengono e che aiuteranno alla scoperta di questo luogo, che ricordiamo è molto grande, sono 10.000 metri quadri, dentro i quali ci sono ancora i vecchi strumenti della produzione e altri residui di stoccaggio. Infatti adesso tutto si sta organizzando logisticamente per la ripulitura del posto e la riapertura al pubblico, a tutte le attività del progetto Rebeldia, quelle storiche e quelle che si sono aggregate lungo il percorso politico del Municipio dei Beni Comuni e attraverso il bando Ideazione lanciato alla fine dell'estate per permettere a chiunque volesse di lanciare la sua proposta per utilizzare questo spazio bellissimo, enorme.